buonasera e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio parlarvi in anteprima della nuova applicazione di spotify in quanto la precedente per le versioni android è stata hackerata quindi spotify nel nuovo aggiornamento che vi sarà arrivato in queste ore vi avrà lasciato un link per dirvi che questa l'applicazione attuale non è più aggiornata in quanto è stata hackerata e quindi di scaricare la nuova versione o dal google play store o dall'amazon app store innanzitutto vi faccio vedere direttamente prima l'applicazione diciamo quella ufficiale che diventa spotify music e non più spotify come come se sempre chiamata su android e come vedete l'ultima versione dice questa versione di spotify non è più supportata ma non ti preoccupare abbiamo una versione nuova nella nel google play store per ulteriori informazioni per favore visita il sito questo qua è il sito blog ufficiale di spotify infatti ci avvisa che siamo spiacenti per il problema che è successo e quindi vi consigliamo di scaricare l'applicazione dal google play o dall'amazon app store per ulteriori informazioni cliccate qua per avere la soluzione e quindi scaricare l'ultima versione e basta quindi se avrete ulteriori problemi potrete leggervi queste informazioni come vedete la versione ufficiale nuova è questa su google play store e questa qua spotify kindle tablet edition su l'amazon app store vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video